Un appuntamento che da tre anni a questa parte si conferma evento atteso da molti. Presso l'Aula Multimediale del Castello di Biceglie, il corso informativo di primo soccorso e risostruzione delle vie aeree nel lattante e nel bambino, organizzato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia BAT. Un'occasione per informare in maniera corretta e precisa su come affrontare adeguatamente le principali situazioni di urgenza e emergenza che possono colpire un lattante o un bambino. L'attività di formazione che questo ordine ha voluto intraprendere ormai da tre anni è fondamentale, rivolta soprattutto alla popolazione, per quanto riguarda le manovre di sostruzione delle vie aeree, proprio perché è la più alta causa di mortalità nei bambini fino a quattro anni. E solo con una corretta informazione si compiono gli atti corretti per poter salvare una vita. Un evento organizzato in sinergia con l'Associazione Zona F. Da tempo, noi gestiamo questo spazio, il Castello di Bicelli, da circa due anni, era in programma l'idea di mettere in calendario un evento di formazione delle manovre di sostruzione, soprattutto per quanto rivolte ai bambini e lattanti. Noi qui organizziamo tanti eventi legati ai bambini, all'infanzia, e potrebbe capitare anche qui. Quindi il personale deve essere ben informato, deve conoscerle, ma anche tutti gli altri. Un corso che continua a registrare il pieno di partecipazione, che per questo sarà presto riproposto. Salvare la vita umana, in questo caso un bambino, rappresenta una priorità. E noi, come infermieri, ogni giorno viviamo anche sul campo situazioni emergenziali particolari, quindi vogliamo dare il nostro contributo affinché sempre più ci sia questa cultura legata proprio all'emergenza. Il 29 gennaio, colgo l'occasione, saremo nuovamente anche presenti al terzo circolo didattico, ma questa volta non solamente esclusivamente al personale della scuola, ma anche rivolto ai genitori, ai nonni, affinché questa cultura, questa conoscenza sia sempre più ampia.